Prattesi in mezzo, cerca Scamacca in area, Scamacca! Stracoscia dice no, poi Prattesi! Destro alto, grande occasione per il Sassuolo. Gioao Pedro che riesce subito ad innescare in avanti l'avanzata in area con il destro! Da parte di Dalbert la parata di Silvestri, che occasione per il Cagliari al minuto 11 vicino al gol. La squadra di Mazzarri. Zaccaria, prova a scappare a spazio, il 28 avanza fino al limite, fa tutto da solo e colpisce un palo clamoroso. De Sciglio, azione ancora viva, dentro Vlaovic, la mette alta di testa. Ha fatto tutto benissimo Zaccaria, la fitta su Skriniar, il destro dal limite, lì dita di Andanovic, decisive. Cross di Reca, mette fuori la difesa, c'è la conclusione, mancina! Di Bastoni, grandissimo riflesso di Baimba! Barro, prende la mira da fuori! Megnan, paratona sulla conclusione del 99! Doppio gesto tecnico, di altissimo livello! Caprani si accentra, Lazubic crea spazio, Caprani! Prova al destro, colpisce il palo! C'è anche la deviazione di Silibu decisiva! Brahim Diaz accelera, frena un paio di volte, rischia di incartarsi, Tonali, cross dentro, verso Giroud! Skorupski! Super parata, poi arriva Leao! E il pallone termina sul fondo, la migliore occasione del Milan al tramonto del primo tempo! Incornata di Giroud, paratona di Skorupski! Ederson, magia di Ederson, che spazza il pallone e calcia! Berisha, altro miracolo del portiere del Torino, che chiude nuovamente la porta! Grande giocata da parte di Ederson, altrettanto grande la parata di Berisha! Grazie a tutti!